quattro più un elementi per diventare coach professionisti il primo elemento non poteva che essere la formazione specifica per specifica intendo solo sul coaching ovviamente su un modello che sia validato scientificamente e efficace nei suoi effetti la formazione si può svolgere online o in presenza suggeriamo una formazione sincrona che cosa vuol dire? che è in diretta con il docente quindi permette un confronto, uno scambio permette di fare domande e ricevere risposte meglio ancora se la formazione prevede anche la possibilità di rifrequentare in modo di approfondire bene gli argomenti e meglio ancora se permette anche l'accesso alle registrazioni in modo da poterle rivedere o riascoltare in qualunque momento una piccola chicca nella nostra scuola nella formazione in presenza c'è anche una parte di formazione in cammino quindi svolta camminando su percorsi particolarmente affascinanti secondo elemento lettura e studio eh sì come in tutte le professioni bisogna leggere bisogna studiare ovviamente bisogna leggere la bibliografia di riferimento del modello scelto e poi anche letture varie sul coaching anche su altri modelli su discipline affini perché? perché per potersi definire dei professionisti comunque bisogna avere una buona cultura generale sul coaching terzo elemento importantissimo l'osservazione di casi reali di coaching condotti da coach, professionisti o dai docenti i casi dovrebbero avere quattro caratteristiche la prima devono essere casi reali quindi non simulazioni casi reali su problemi veri o obiettivi veri secondo elemento i clienti dovrebbero essere veri quindi meglio se esterni alla scuola il suggerimento è di fare pratica su almeno il 70-80% di casi esterni alla scuola quindi con perfetti sconosciuti terzo elemento importante il caso deve essere intero cioè per diventare dei coach professionisti dobbiamo vedere i casi interi svolti dalla prima fino all'ultima sessione sono tanti coach che arrivano da altre scuole che ci dicono di aver assistito solo a prime sessioni molto spesso tra l'altro su simulazioni e su casi interni quindi tra corsisti peccato quarto elemento i casi devono essere di diversa tipologia e per diversa tipologia intendo sia la tipologia di casistica non so ad esempio casi di decision making con casi di sblocco da performance casi di tensione per performance casi relazionali casi di managing up o casi di leadership e poi con diversi livelli di successo quindi casi con successo pieno caso con successo parziale drop out perché c'è anche chi abbandona il percorso di coaching o addirittura casi di insuccesso ecco che secondo noi per diventare professionisti bisogna assistere ad almeno una trentina di casi reali interi con clienti veri condotti da coach o docenti quarto elemento la pratica su casi reali in prima persona ovviamente con dei feedback quindi con la supervisione di tutor e docenti anche qui i casi devono essere reali quindi non simulazioni ci può essere qualche caso interno alla scuola ma giusto per iniziare ma poi i casi devono essere condotti con clienti esterni quindi con perfetti sconosciuti meglio se assegnati dalla scuola cosa che noi ad esempio facciamo ovviamente la supervisione deve essere sul caso intero quindi dalla prima fino all'ultima sessione e il suggerimento è di fare pratica almeno su quattro casi quattro casi ad una media di cinque sei sessioni a caso vuol dire fare pratica di coaching in prima persona per almeno 20-25 ore ma questo è il minimo per poter diventare un coach professionista e la cosa più importante è ricevere feedback in diretta o sulla base delle registrazioni su come abbiamo condotto i casi con questi clienti esterni quinto elemento che è l'elemento in più è il più uno una community di corsisti e di coach che permetta condivisione, confronto, innovazione, aggiornamento sono tanti coach che lamentano la solitudine del coach perché non hanno elementi di confronto non ricevono supervisione non possono fare supervisione non aggiornano i propri strumenti mentre una community viva, vivace che permetta un'evoluzione della propria professionalità e dei propri strumenti secondo noi è doverosa ed ecco qui quindi le quattro basi fondamentali la formazione specifica la lettura e lo studio che rispondono all'area del sapere poi c'è la parte più importante più corposa che è il saper fare che ovviamente insiste sull'osservazione di casi reali condotti da coach professionisti e sulla conduzione in prima persona di casi reali ricevendo supervisione e poi il quinto elemento l'extra la community questi sono fattori fondamentali secondo noi per diventare dei coach professionisti di altissimo livello e valore professionale